buongiorno ragazzi oggi vi mostro il disastro che c'è a casa queste cose qua le cipolle di tropea pomodorini basilico e questo cetriolo raccolto dalla campagna fresca e fresca della mia vicina di casa che oggi mi ha fatto questo regalo che più tardi vi faccio vedere come li vado a sistemare comunque ragazzi questo è la situazione che c'è oggi a casa mia devo cucinare lavare i piatti spolverare e di più ne ha di più ne mette conservare i vestiti che stirato ieri che vi ho fatto vedere nel video pulire la parete e andare a fare i letti guardate qua che disastro che c'è comunque ragazzi perciò fatemi vi prego compagnia perché io non so se ce la posso fare cucinare pulire e rammentare tutta la casa tutta la casa da sistemare ce la farò vedremo un bacio a tutti a dopo a presto Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.